Ci dispiace da morire perché ci tenevamo, abbiamo fatto bene fino a prima di questa gara, bellissimo, non bene, però il calcio è anche questo, noi sapevamo delle difficoltà, un girone, si diceva che fosse un girone facile, il fatto sta che siamo usciti con sei punti. Al di là degli episodi si aspettava una squadra avversaria così pronta, così forte? Sì, me l'aspettavo, perché l'avevo vista due volte e sapevo che erano molto bravi, soprattutto in ampiezza, aprivano molto bene il campo, giocano molto prima, giocatori rapidi, nell'uno contro uno, sì, me l'aspettavo che sarebbe stata una partita difficile. È iniziata la partita in salita, con il gol dove il vento ha condizionato l'errore di Lentini, poi psicologicamente un po' la squadra è accusata, loro hanno preso coraggio, e nel primo tempo abbiamo fatto grande fatica a fare il gioco, a salire la loro metà campo per bravura loro, perché il vento non ci permetteva di farlo, e nel secondo tempo siamo stati bravi subito a rimettere la partita in gioco, e poi dopo lì mentalmente il calcio di rigore è un pochettino, il calcio di rigore è l'inferiorità numerica, perché poi tra l'altro, tutto il danno, pure la beffa, perché sul calcio di rigore, che secondo me era inesistente, perché quando era fuori aria c'è stata anche l'espulsione, quindi 10 contro 11, nonostante ci abbiamo provato lo stesso, però non ce l'abbiamo fatto.